sinistra 4 30 sinistra 4 destra 4 in ritarda sinistra 4 e stringi destra e sinistra 4 stringi e ritarda a destra 4 30 al muro ritarda molto alto quella è umida a destra 3 destra 3 in sinistra 4 e ritarda a sinistra 3 chiude e stringi 3 chiude e stringi è proprio bastarda quella là ritarda a destra 4 due tempi lunga in subito attenzione ritarda a sinistra 3 stringi in vai vai in destra 3 pogge da destra 3 in sinistra 4 due tempi chiude 3 e stringi stai largo in destra 4 no vai destra 5 50 e attenzione a ritarda a sinistra 3 sinistra 3 in destra 3 no vai più deciso vai più deciso di sinistra 4 vai 50 al palo destra 4 vai di sinistra 6 50 e ritarda a sinistra 4 stringi destra 4 tieni 50 ritarda le in sinistra 4 5 vai 50 vai 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 al palo sinistra 5 per destra 5 150 zo 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 teni zo teni zo in fondo attenzione sinistra 4 stringi e vai alla fine e vai alla fine frena qua ok dentro 80 al cartello ritarda a destra 4 destra 4 per sinistra 3 lunga stringi e destra 4 destra 4 per destra 4 per sinistra 4 stringi e destra sinistra 5 in ritarda destra 5 lunga in sinistra 4 lunga stringi sinistra 4 lunga stringi 50 e destra 5 due tempi pieno più della fine pieno 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 sinistra 6 due tempi che la chicane entra a destra entra a destra 80 alla casa a destra 6 due tempi sinistra 5 due tempi porta la casa vai vai 80 80 sinistra 6 e destra 6 sconnesso occhio interno 80 vai 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 al cartello ritarda destra 4 in sinistra 5 stringi 150 giù 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 sinistra 5 150 ok chicane entra a destra così giù ridassato fisso così chicane entra a destra sulla prima sinistra e destra 5 due tempi stringi in subito ritarda sinistra 4 conta vai 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 dentro dentro 80 e che l'altra chicane la chicane 80 allora ritarda sinistra 4 per destra 5 e array ritardo molto destra 4 stringi in subito sinistra 4 stringi sinistra 4 stringi in petalento petalento ok destra 4 50 sinistra 4 vai 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 dentro sinistra 4 vai dentro sinistra 4 2 lo ritarda con l'entrata in curva 50 sinistra e destra 4 80 destra 4 80 150 sinistri e attenzione al cartello ritarda molto destra 4 lunga lunga destra 4 lunga lunga 5 80 ok ok tegne dal 2 tegne dal 2 ritarda sinistra 2 chiude 50 sinistra 2 chiude 50 per albiri destra 3 e destra 3 e ritarda sinistra 3 corta 50 destri ritardale ritardale 50 destra sinistra 4 vai 50 sinistra 4 vai 50 ritarda sinistra 3 corta in subito destra 5 due tempi no sinistra destra 4 no e sinistra 4 vai sinistra 4 vai e sinistra 4 chiude 80 destri sinistra 4 chiude 80 destri destra 5 in subito sinistra 4 per destra 5 lunga 50 sinistra 5 3 tempi chiude no a rosso chiude no 4 a rosso ok vai vai 50 destri al cartello sinistra 4 in subito attenzione ritardo a destra 3 stringi 50 50 sinistra 4 50 attenzione destra 4 no destra 4 no 50 e che è il tornante sinistro tornante sinistro Dagen colpo tornante destro Dagen colpo Dagen colpo ok sinistra 4 per destra 4 e ritarda sinistra 3 due tempi chiude alle zebre chiude alle zebre oggi non balare il cambio destra e sinistra occhio sporto in destra tornante destro tornante destro non piccare quel cambio sinistra 4 albieri apre e destra e sinistra 4 due tempi chiude in subito destra 4 50 destra 4 50 al cartello ritardo a destra 4 no per sinistra 4 vai 50 e ritarda albistra sinistra 4 lunga stringi sinistra 4 lunga stringi in destra 4 vai no 150 destri 150 destri alle rocce schieresle tonda c***o la macchina alle rocce a destra 6 due tempi per sinistra 4 due tempi sinistra 4 due tempi dai lontano secondo due tempi in destra 4 50 per ritardo a sinistra 5 e subito tornante sinistro quel che taggirà tagge in pulpo leggero destra 5 due tempi vai 150 a vista e al cartello molta attenzione destra e sinistra 4 in subito ritardo tornante destro ritardo tornante destro oh così 100 sinistri bocca finalmente sinistra 4 due tempi stringi due tempi stringi destra 5 in subito tornante sinistro occhio vai 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 che non è in c***o tornante sinistro 80 destra 5 due tempi 50 e alle tebre ritarda tornante destro ritardo tornante sinistra 5 due tempi chiude 4 dopo i tornanti tutto rimane sul volante chiude 4 200 sinistri 200 sinistri a rosso l'anbondo sinistra 4 due tempi 5 4 scusa due tempi chiude 4 in subito destra 3 no destra 3 no sinistra 4 vai e destra 4 in sinistra 4 due tempi vai destra 4 no 50 e ritarda sinistra 4 per destra 4 chiude e pende 100 100 e tornante da un fondo 8 che è umido tornante alla tebra si è ancora un sinubito ma può farlo 50 destri sinistra 4 per subito tornante destro finalmente a scampi tornante sinistro tornante sinistro 50 massa 8 ritarda albiri destra 4 chiude per sinistra 5 30 tornante destro non esagerare se no si giro nel così perfetto sinistra 4 per destra 4 chiude in ritarda molto sinistra 3 no in destra 3 in sinistra 4 vai 50 destri destra 4 80 attenzione addosso in subito destra 4 2 tempi destra 4 2 tempi sinistra e destra 3 in sinistra e destra 4 no in sinistra e destra 4 no ancora 80 all'albero grosso destra 4 no per subito sinistra 4 destra e sinistra 4 stringi non piccare il cambio destra 4 2 tempi chiude no sinistra 4 ritarra sinistra 2 sinistra 2 100 100 100 alla zebra attenzione accenno destro per tornante sinistro tornante sinistro destra 3 in sinistra 3 e albiri ritarda molto destra 2 diventa tornante destro tira la leva a metà sinistra 3 per destra 3 in tornante sinistro tondo pulito tornante sinistro tondo pulito fallo pulito destra 3 in sinistra 4 e le zebra destra 2 lunga apre destra 2 lunga apre sinistra 4 vai 50 ritarda albiri sinistra 3 così frenela così sinistra 2 che ritarda molto destra 2 lunga 2 tempi chiude molto alla fine 50 50 tornante stretto oggi 50 attenzione stai al centro ritarda da destra 4 stai al centro e spacca dritto per sinistra 2 sinistra 2 chiude ok destra 2 no sinistra 4 2 tempi chiude 3 chiude 3 e attenzione destra 4 lunga lunga chiude 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 3 no qua destra 3 stringi in sinistra destra 3 stringi in sinistra 3 lunga lunga chiude 2 e al muro 30 al muro attenzione destra 3 stringi 80 destra 3 stringi 80 alle rocce in fondo vedes il rosso destra 4 no in subito sinistra 4 in destra 3 no e al muro destra 4 50 ritarda sinistra 3 in subito tornante destro occhio interno occhio interno occhio interno 50 sinistra 5 2 tempi chiude 4 50 50 occhio con la leva accompagnala 50 sinistra 3 ritarda sinistra 3 in destra 4 vai 50 destri albiri sinistra 4 vai 80 sinistra 4 vai 80 zo albiri sinistra 4 2 tempi chiude in subito destra 4 stretta questa sinistra 6 2 tempi chiude chiude in sinistra e destra 4 e sinistra 4 in destra 3 stringi e subito tornante sinistro vai vai zo 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 sinistra e destra 4 chiude in sinistra e destra 4 ancora 80 albiri destra 4 2 tempi apre apre tornante destro tondo alla zebra tornante destro tondo stacca fisso stacca fisso non aver paura stacca fisso fino ad escatto sinistra 3 lunga apre 4 50 50 e ritarda destra 3 alle rocce e stringi destra 3 le rocce e le stringi con il snarinto sinistra 4 no 80 al tornante alla zebra tornante sinistro tornante sinistro stacca bravo 2 50 sinistra 4 no persunto tornante destro non aver paura a farlo questo qua fallo 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 ok 50 sinistra 5 2 tempi subito ritarda destra 2 occhio all'interno che è il paletto occhio all'interno che è il paletto ok sinistra 3 e ritarda destra 4 2 tempi chiude 3 chiude 3 e sinistra 3 vai più deciso più deciso più deciso tenito destra 4 lunga chiude intornante sinistro 50 tornante sinistro compagnola colpeto via 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 50 ritarda destra 3 chiude molto chiude molto in sinistra 3 in subito tornante destro tornante destro tagge in colpo qua via 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 sinistra 4 vai 50 e al cartello sinistra 5 2 tempi steccato attenzione destra 4 stringi in subito tornante sinistro così così sentila sentila calava via fa anche frenes destra 4 chiude in sinistra 4 e subito destra 3 chiude e attenzione attenzione ritardalo molto sinistra 2 no sinistra 2 no per destra 4 due tempi apre 150 a vista in fondo alle zebre molta attenzione tornante destro tornante destro pinza 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 questi freni sinistra e destra 4 per ritarda sinistra 3 chiude e destra 4 e sinistra 4 su ponte ritarda sinistra 3 chiude sinistra 3 chiude destra e sinistra 4 allo steccato destra 4 vai destra e sinistra 5 50 molta attenzione destra 4 chiude e 50 tornante sinistro zo 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 vai zo fino al tornante ok colpo a metà tornante tranquillo destra 4 e ritarda sinistra 4 e ritarda molto destra 2 2 tempi chiude la fine stai alto sinistra e destra 4 2 tempi per attenzione sinistra 4 2 tempi e destra e sinistra 4 4 stringi no 50 oggi ho bagnato vai tranquillo Biri ritarda sinistra 3 stringi in destra 3 ritarda e liste corte qua sinistra 3 lunga vai in destra 4 su dosso sinistra e destra 4 e sinistra e destra 4 attenzione sinistra sinistra 4 lunga i tempi vai destra 5 in sinistra 4 80 sinistra 4 lunga lunga e sinistra 4 lunga destra 3 questa qua sotto destra 3 sinistra 3 lunga chiude no zo 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 destra 5 su dosso vai zo zo 150 150 vai zo 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 ancora ancora zo into 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 gira gira sparme morte